Durante il ricevimento, quando è stato? Giovedì, alcuni vostri colleghi hanno chiesto se era possibile fare una lezione straordinaria venerdì per fare ulteriori esercizi, ho chiesto di fare una votazione in rete, non so se è stata fatta, ha avuto l'arconsenso la cosa? Comunque lo chiede anche oggi, si tratterebbe di venerdì dalle 13.30 alle 15.30 perché è l'unico momento in cui l'aula è disponibile. Se volete, c'è un grosso interrogativo dovuto al fatto che io ho tre figli, La mia figlia maggiore ha avuto una forte febbre fino a venerdì, adesso gli altri due figli a casa con febbre e soltanto antibiotici, io spero di resistere. Venire in aula a fare esercizi con 38 di febbre non serve né a me né a voi perché se non sono lì con la testa non riesco a fare neanche io, quindi non so che cosa per di più potrei... Non sono perfettamente in forma neanche oggi ma da oggi la rego ancora, quindi salvo problemi di salute se sono in piedi vengo volentieri. Ok? Non ricordo bene l'aula, l'ho prenotato e direi questa. Avete domande? Io avrei una domanda però che fa parte di riguardo a concorrenza nella domanda. Assolutamente è ben posto. Ok, allora volevo chiederle se ad esempio per le critical session si poteva fare il confronto per uscire o rimanere all'interno del while iniziale, confrontando, cioè se era obbligatorio confrontare la variabile locale oppure si potesse confrontare anche la variabile globale o la variabile locale insieme? La globale non dà alcuna garanzia fuori dalla operazione atomica. Andare a confrontare la variabile globale è pericolosissimo perché provoca tutti quei problemi alla tecchere per le persone. Nessuno garantisce fuori dall'azione atomica che rimanga il valore che aveva precedentemente. Quindi la regola per fare l'esercizio tipo test and set è la globale viene acceduta una volta sola per loop dall'operazione atomica. Per l'uscita, se la variabile globale è visibile, è accedibile, potete procedere con una mera assegnazione che per le convenzioni che abbiamo fatto è atomica. Attenzione però che se la variabile è una variabile nascosta all'interno di una struttura dati, abbiamo visto degli esercizi dove la variabile globale faceva parte della definizione della classe, a quel punto non vi è più consentito andare a cambiare il valore, non ne avete accesso. Allora l'unico modo è fare un'altra chiamata a una delle funzioni atomiche che vi sono state date per accedere nuovamente alla globale. La mia domanda era posta ad esempio se so che comunque i valori della globale vanno comunque sempre a diminuire perché ad esempio voglio fare andare in underflow, il mio valore numerico, comunque so che la variabile globale sarà minore sempre di un certo valore, cioè comunque lo posso fare in questo caso, perché comunque la globale dovrebbe identificare per ogni processo concorrente lo status alla critical section e libero occupata. Sì però, cioè, quello che dice ha un senso ma non lo può fare, che non dia le interpretazioni sbagliate a queste mie parole. Allora vi spiego perché. Se lei usa una qualche monotonia, lei mi ha adesso accennato a una variabile che tende a zero, ci sarà un valore della variabile globale che consente l'ingresso. Se viene diminuita da più processi prima che il primo possa controllare, lei causa un deadlock, perché arriva il primo processo, quando vediamo che è un caso semplice, ogni processo divide per due, arriva il primo processo, la uno lo pone a un mezzo, che sarebbe il valore per entrare, quindi controllando la variabile globale di un mezzo sarebbe quello buono. Ma prima che questo processo possa controllare, arriva l'altro e lo porta a un quarto. Il risultato è che tutti e due lo trovano a un quarto, e poi un ottavo si è deciso, uno fratto due è la n, e quindi è vero quello che lei mi ha detto, che tutti lo troveranno a minore di uno, ma siccome c'è un valore che deve essere tirato fuori dal gioco, lei non l'ha tirato fuori dal gioco, per vedere se si può accedere alla critical section o no, lei l'ha perso. Ok? Prego. Deguardo al problema del tuo rispettore. Sì. La nostra versione, la slide 156. Allora, la slide 156. Nell'ogico. 11. Concorrencia. Concorrencia. Con un micro. La slide 100. Per forza di vita come il po' di ciro. Non è che ci sono. Ha detto 50, ci sono. Non è che ci sono. Non è che ci sono. Non è che ci sono. Sono sempre sbagliati. Non è che ci sono. Non è questa. Non è che ci sono. Potrebbe essere più di pane. Non è che ci sono la chiave più stasso. Sì. Allora. quando il problema si ha quando esce l'unico scrittore perché comunque falso può fare dei danni se manda avanti il primo degli scrittori a quel punto crea starvation perché se ci sono sempre scrittori in attesa continuano a entrare se manda avanti i lettori se manda avanti i lettori e poi quelli vanno avanti succede un guaio allora guardate il w last che viene posto a true ogni per ogni scrittore che entra e viene posto a falso per ogni lettore che entra e quindi in un certo senso è un sistema turni se l'ultimo uno scrittore pone i lettori se l'ultimo il lettore pone uno uno scrittore fatemi vedere se non vorrei che ci fosse un errore eh sì sì secondo me è un errore perché nel controllo per la lettura non c'è col astro quindi c'è col astro quindi c'è col astro sempre tu quando vorrei ricontrarti negli scrittori e quindi l'ultimo farvi che un attimo che devo rientrare nella nell'ottica di vedere questo allora allora il lettore manda sempre avanti uno scrittore lo scrittore se ci sono lettori se ci sono lettori manda avanti un se ci sono lettori manda avanti un lettore se non mi quadra avete ragione non quadro perché quello che non mi torna è che eh quando c'è uno scrittore c'è solo uno scrittore eh però potrebbe essere potrebbe essere terminato e quindi allora lì il primo pensiero che viene da dire è eh a quel punto laggiù l'astro sembrerebbe sempre essere vero perché eh c'è uno scrittore solo alla volta durante gli scrittori nessun nessun lettore può andare avanti quindi arriva lì con w-last vero quando è che può eh w-last rimane tale se cessano di esserci richieste ma in questo caso non viene più contattato allora se c'è un lettore allora la conciuttura che io che io vi porto da pensare eh però se io ho che w-last è forse per se non è l'ultimo a leggere il sabine del lettore eh sì il problema è servirebbe a qualcosa proviamo a pensare di togliere completamente i controlli della gulask proviamo a pensare di togliere completamente come ci comporta questo allora eh è ovvio che se ci sono solo lettori o solo scrittori le cose funzionano perché se ci sono solo lettori weight in w è uguale a zero e quindi lascia eh lascia entrare tutti i lettori che vogliono contemporaneamente e così via invece se sono scrittori eh non lettori enterne secondo if poniamo che ci siano delle belle code piene sia dei lettori che dei scrittori cosa succede eh quando quando il lettore quando esce uno scrittore manda avanti lo scrittore manda avanti un lettore però solo se weight in w più uguale a zero o w last quindi eh quella cosa andrebbe cancellata completamente quindi if se c'è un lettore in attesa mandiamo avanti un lettore che va avanti e eh manda avanti tutti i lettori in attesa però siccome ci sono degli scrittori in attesa siccome ci sono degli scrittori in attesa non ne lascia entrare dei nuovi quando questi prima o poi finiranno se c'è uno scrittore in attesa manda avanti uno scrittore quindi eh ciò che si è scritto sul lucido è vero ma è inutile cioè nel senso che proviamo pensare di togliere tutti gli statement che contengono w last e lo statement finale lo mettiamo in questo modo if waltic r è natura di zero a waltic r meno meno senna r punto senna r punto v s if ok ok andiamo semplicemente a fare così allora vediamo cosa succede arriva arriva il primo lettore entra perché trova che non ci sono né scrittori né lettori entra arriva il secondo lettore entra e così ne possono accedere n arriva il primo scrittore ovviamente non entra perché c'è almeno un lettore ma blocca ulteriori lettori dall'entrare perché setta setta w maggiore del zero il risultato è che i lettori che i lettori che sono in attesa prima o poi termineranno non appena arrivano a zero essendoci un waiting w essendoci un waiting w viene attivato il primo scrittore che ovviamente entra solo adesso appena finisce di farci sapere la frequenza ecco entra quando esce se i casi sono due o ci sono lettori in sospeso allora fa entrare il primo lettore ma attenzione il primo con la if subito dopo fa entrare in cascata tutti gli altri quelli già in attesa al momento in cui lo scrittore esce e se invece non c'è nessun lettore fa partire lo scrittore in attesa purché ce ne sia uno o se no esce e quindi il risultato di questo scritto così che in realtà è il risultato anche di quello scritto da lavagna perché mulastro non viene di fatto utilizzato è quello di alternare uno scrittore con tutti i lettori in attesa uno scrittore e tutti i lettori in attesa prego però se c'è uno scrittore dentro un altro che sta aspettando di scrivere e di là un autore di lettori in attesa quando parte allora uno scrittore risveglia un lettore che però quando parte cioè però non parte dagli altri perché gli altri stanno aspettando perché c'è un scrittore a me risulta viene passato il testimone prendiamo la canna questa a questo qua vabbè indiciamo qua questo qua sveglia il primo che è in attesa qua vuoi vedere? quindi qui riparte con la mutua esclusione ok quindi ce n'è ancora uno? vediamo che siano tre quindi qua è diventato due quindi mando avanti quell'altro però in questo caso non è in mutua esclusione no sì ma sì sì perché è la serie della sì sì ok però lui che ha lasciato la mutua esclusione al ha lasciato la mutua esclusione al successivo dei tre lui esce e legge il database quindi parte l'altro esce legge il database parte il terzo esce ok se arrivassero altri programmi lettori i processi lettori e i casi sono due c'è anche un altro scrittore in attesa o no? sì se c'è un altro scrittore in attesa i nuovi che arrivano ovviamente tutto questo passaggio che ho detto ora avviene con la mutua esclusione tenuta e quindi è tutto a boccia ferme nel momento in cui abbiamo esaurito la coda viene rilasciata l'ultimo passo di qua rilascia la mutua esclusione e quindi dopo quelli che arrivano dopo se arrivano durante questa operazione erano fermi lì ok quando rilascia la mutua esclusione fa un passaggio ma trova che waiting W è maggiore di 0 si bloccano lì quindi non dà starvation perché c'è un punto di telemitazione il punto in cui viene dato questo W qua tutti quelli che erano già in coda al momento di quella W vengono rilasciati quelli che faranno la W dopo sono bloccati fuori la mutua esclusione entreranno nel prossimo giro un po' come non lo so l'ultima volta che sono andato agli uffizi che facevano entrare un blocco dei folli poi a un certo punto dicevano no adesso fra un quarto d'ora si entra ok e allora ci sono i mezzi drami perché di solito il punto di demarcazione è che delle famiglie a metà a metà dovrebbero rimanere fuori ok ok altre domande prego lei ha già dato quindi va in coda andiamo con chi deve ancora domanda io non ho così fatto come si può conciliare il discorso del di di se voglio gestire una priorità di processo c'era un esercizio in cui si chiedeva di fare questa cosa però non ho capito quel certo quando quando lei deve gestire delle priorità quindi i processi devono essere ordinati in una maniera che non è faico non è semplicemente una coda lei non può più utilizzare l'accodamento naturale delle variabili di condizione perché quello è solamente faico quindi l'unica soluzione che ha è quella di mettere variabili di condizione una per ogni processo bloccato e se le tiene nelle strutture dati che lei usa per fare l'ordinamento quindi ha una coda una varia coda a livello di priorità avrà avrà una variabile di condizione per ogni coda ha addirittura una priorità dinamica quindi ha una priority più non lo so una una struttura dati complicatissima quindi lei non sa a priori quale dovrà risvegliare lei nell'elemento che mette nella struttura dati per tenere conto dell'ordine ci mette una variabile condizione il risultato è che in quella variabile condizione ci sarà bloccato un processo solo quando lei vuole svegliare quel processo manda la signal esattamente a quella variabile di condizione lo urgent stack è solo un meccanismo per conciliare il problema di segnalare una condizione quindi vogliamo fare in modo che quando si segnala una condizione il processo che viene risvegliato sia certo di avere quella condizione vera questo è un accordo da mettere insieme da far conciliare con la brutta esclusione del monitor allora nel momento in cui mando la signal io devo attivare subito l'altro processo perché devo essere certo che è vera a quel punto però non so che farmene del processo che ha segnalato non posso lasciarlo nel monitor operare se no violo il principio fondamentale di mutua esclusione all'interno del monitor quindi lo deve in qualche modo sospendere lo urgent stack non è altro che l'idea di sospendere il processo e non appena quello segnalato si ferma esce dal monitor prima di fare altre cose si ritorna al processo segnalante è un po' come se la signal fosse una chiamata condizionale cioè sono qua in maniera atomica chiamo metteteci dei quote l'altro processo perché ho la condizione vera però è come una chiamata a funzione quando lui ha fatto quello che deve fare continuo io ok lo urgent stack non deve mai farvi pensare alla alla sincronia che c'è nell'esercizio se anche l'esercizio prevedesse un ordine LIFO uno dice ma che appena lo urgent stack è LIFO quindi uso quello no lo urgent stack non c'entra niente con le sincronie dei processi tant'è vero che lo urgent stack determina solo l'ordine in cui viene riattivato il processo dopo una signal e ponete che sia in fondo l'ultimo statement di una procedura entry sia una signal ok vuol dire che quel processo non sarà né prima né dopo di quelli segnalati se escono dal monitor ma sarà contemporaneo a quelli segnalati se escono dal monitor ricordatevi sempre che il momento di uscita dal monitor cioè andare a vedere questo esce un attimo prima dal monitor perché ha ricevuto la signal prima invece quello è nell'oyl stack e tornati indietro esce dal monitor dopo non serve a niente perché perché per voi devono essere considerati contemporanei quelli che quando escono dal monitor se sono abilitati a uscire dal monitor sono contemporanei se il primo manda una signal al secondo il secondo esce dal monitor è subito uscito dal monitor abbiamo final progress si mette in pausa per un'oretta il primo che ha mandato la signal esce e lavora subito in realtà produrrà effetti prima di quello che ha ricevuto la signal quindi lo user stack è solo un meccanismo utilizzato per scrivere programmi vi può servire solo per sapere mandando una signal forse è partito quello la forse se c'è qualcuno che attende la condizione quindi quando rientro posso andare a vedere delle variabili che l'altro mi ha modificato per esempio per sapere se è veramente partito qualcuno o no ok ne approfitto per fare un'altra precisazione è una ripetizione ma è importante le primitive hanno i paradigmi hanno le primitive che vi sono state date un esercizio risolto con una fantomatica funzione che voi dite esistere che conta quanti sono i processi fermi su una determinata condizione o vi restituisce il valore del semaforo è un esercizio sbagliato perché la condizione non è primitiva che vi dà quanti processi sono bloccati il semaforo non ha una funzione che vi dice il valore ok se avete bisogno di questi dati li gestite voi con delle variabili all'interno del vostro codice ok forse mi sono confuso con questo discorso ma se io ho un processo che chiama la signal e poi ha bisogno di una variabile che deve uscire che è stata modificata ad un altro processo di cui io ho chiamato la signal cioè non esci non esci non esci ma all'interno del monitor la mutuosclusione garantita quello che io dico è una volta usciti dal monitor non potete garantire nulla quindi poniamo una cosa deve essere fatta prima dal processo A poi dal processo B non posso fare un monitor che fa uscire prima A poi B dal monitor ma escono tutte e due al monitor perché non ho nessuna garanzia che venga fatta prima A poi B ci vuole qualcosa che faccia uscire A e poi qualcosa che quando A ha finito di fare l'operazione rientri nel monitor lo sblocchi B perché se tutte e due escono dal monitor per noi sono contemporanei non è primo o dopo ok c'era una domanda da questo lato 95 sempre di questo pacco scopo quindi io devo scrivere 94 è questo questo è dimostrando che con la testa si fa quasi una critical section quasi allora dobbiamo dimostrare le quattro condizioni per avere una critical section quindi muta esclusione e questo è solo chi riesce a fare la test reset quando l'hoc vale 0 il primo che riesce a farlo entra gli altri no perché testa il set set lock e quindi non rimane nel ciclo d'ingresso no deadlock bisogna venire per assurdo che ci siano due processi che vogliono entrare che si bloccano dicendo oppure una una coda circolare d'attesa io aspetto aspetta b che aspetta c che aspetta ma se abbiamo due processi nella coda d'ingresso l'ipotesi assurda che tutti ciclino all'interno del ciclo iniziale vuole che tutti mettano al valore vp uguale a 1 ma ciò non può essere perché il primo troverà lock uguale a 0 e dovrà copiato il vp mancanza di delay non necessari cioè vi ricordate nel caso in cui un processo fuori dalla critical section possa bloccare altri dall'entrare il caso che nello spiegare Decker era quello dei turni e qui non è un problema perché quando uno è fuori da critical section lock lo lascia a 0 e quindi qualcuno entra il problema è starvation se c'è il processo sfigato prende sempre il momento sbagliato per fare la test and set e quindi rimane bloccato quindi test and set non garantisce starvation non garantisce la mancanza di starvation no avere una primitiva che garantisce starvation sarebbe il massimo utilissima ok c'è un'altra domanda da parte solo messo in coda per un attimo di reciprocità poi volevo chiederle se con l'invio con no asincrono se io invio un messaggio prima che quell'altro processo chiami la ricevi comunque quello che chiama la ricevi riceverà un messaggio non è che deve il processo ricevente inviare prima la ricevi e dopo riceverà un messaggio c'è comunque la garanzia quando pensate ai messaggi a singoli pensate alla mail voi aspettate una mail una mail che è molto importante quindi state lì aspettate guardate la mail però la mail può essere partita anche prima in modo che appena arrivate a leggerlo è già lì e vi aspetta ok cosa importante i nostri meccanismi di message passing non prevedono guasti o perdite se non specificate dal testo e se vengono specificate dal testo ci sono stati alcuni testi vi viene detto anche come viene perso vi viene dato un programma che volutamente perde i messaggi come richiesto comunque message passing asincrono la area save si può fare prima o dopo che il messaggio si è inviato in nessun caso viene perso se viene fatta prima è bloccante se viene fatta dopo è bloccante non è terza tra mani se ho sentito parlare di message passing mi sono accorto che anch'io ho un video su message passing per esempio abbiamo un messaggio di message passing smemorato che mi ricordo che mi ricordo è un esagito che io stesso qui ha dato la risposta non è possibile ovvero mi invio un messaggio da solo e se ho già ricevuto il messaggio beh altrimenti ricevo l'h e poi ritero questo procedimento e questo sì implemento di message passing però se io nel momento in cui vado a ricevere il messaggio e ricevo il messaggio di un'altra persona o un altro messaggio dello stesso soggetto vado a perdere questo messaggio questo non è il caso specifico il nostro caso era un altro esercizio per il quale dovevo ricevere solo da tutti e dovevo ricevere da una persona specifica e a tenere in coda a tutti gli altri questo era impossibile perché se nell'ipotesi continuavano ad arredarci altri messaggi noi non avevamo mai modo di riuscire a ricevere da una sola persona in ordine tipo cioè se fosse andava a perdere l'ordine tipo oppure bisognava modificare proprio il testo dei messaggi la più invenuto degli app io posso modificare il testo dei messaggi per esempio per esempio le informazioni aggiuntive sui messaggi per esempio un indice di arredino o altre informazioni allora devo dare le tue risposte partiamo da quest'ultima se lei sta facendo un servizio ok il servizio si pensa chiuso cioè le tutte tutti i processi in gioco usano le sue primitive al posto di quelle date quindi se lei ha bisogno di mandare un messaggio particolare lei semplicemente nella send prende il messaggio M lo orla cercavo un termine migliore questo è il termine dell'algebra lo orla di altra informazione e lo manda alla ricezione lei lo prende elimina le altre informazioni che le serviranno per la gestione e restituisce il messaggio questa è la prima risposta quindi lei fa un servizio l'importante è che sia coerente nella visione esterna è un layer lei fa un layer lei si manda i messaggi come vuole e fa vedere il servizio che le serve la seconda risposta è relativa a come faccio a non perdere i messaggi se lei ne abbiamo già fatto anche un esercizio ne faremo anche qualcun altro se lei ha un servizio di message passing e deve strutturare le cose in modo che le possano arrivare i messaggi nel momento sbagliato è il suo compito tenersi una struttura dati che tenga i messaggi che sono arrivati in maniera erratica ma che serviranno dopo da parte perché quando dopo le arriverà la chiamata che fa riferimento al messaggio già giunto lei lo vada a recuperare da una sua struttura dati locale ok quindi comunque la struttura dati permaneva anche dopo la fine della chiamata della progetta sì 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 è una funzione globale cioè non si pensa assolutamente due programmi istinti che usano lo stesso servizio di message passing sono lo stesso attenzione la struttura dati è permanente perché lei fa un layer per quel processo però è a memoria privata quindi è la memoria di quel processo specifico se lei in un altro processo ha bisogno dei dati che ha memorizzato quell'altro non li può avere l'unico modo è messo a spazio quindi se lei ha un assemble e una receive fatta dallo stesso processo può tenersi i dati tra l'assemble e la receive se hai dati del processo A e quelli del processo B assolutamente è quello lo so che tra volte sembra che io ripeto e sembrano banali le cose ma ne ho visti di esercizi con messa a spazio in cui dice ma ce l'ho nella struttura dati vado al processo sbagliato e ovviamente è con cui esercizi però il discorso delle ormature che abbiamo chiamate è efficace e della propria che c'era complimenti voi però ci stanno detto che questo non è generale perché se io voglio inserirlo in un contesto di un altro tipo di messa a spazio che permette di scambiare con altri servizi di messa a spazio se quell'altro usa già al massimo della diretta di carattere disponibili io non posso riornare ulteriormente il messaggio facciamo quindi perché questi problemi non ci siano perché quando parliamo di messa a spazio a questo livello non abbiamo MTU per intenderci maximum transfer unit che è quello dei pacchetti di rete noi mandiamo dei messaggi ideali e tra l'altro come questa volta succede nella realtà gli attori del gioco sono d'accordo quando voi aprite una comunicazione a porto tanta sapete che tutti parlano dell'HTTP se uno si mette a parlare di qualcosa può darsi e faccia saltare tutto o perlomeno smette di funzionare quella comunicazione ma è normale quando c'è una comunicazione non permettere il problema di dire ma se c'è qualcuno che arriva mi manda un messaggio ma non c'entra niente con noi no no quello non è un problema che dovete risolvere scusi ma quindi questa ordonatura viene effettivamente scritta su forma di tagli si lei può mettere ma invece di mandare il messaggio manda una una struttura una tupla come volete chiamarla con n cose quelle che vi servono identificativo dell'emittente se non volete stare mettere la prende emittente e varie altre informazioni accessori scusate quando voi mandate un pezzettino di che ne so di di poniamo una richiesta dns quando arriva al livello 2 l'avete bene orlata di dire questo è uno di piva porta 53 questo è indirittura voi in realtà ad alto livello avevate un messaggio dall'altra parte togliete quello che serve e lo mandate su a livello giusto con il messaggio a quale sono state sfondate di tutte queste cose accessorie no quindi è una cosa funzionante cioè reale mi piace sta lezione prego certo ci sono i moni con altri processi i moni con altri processi a manda la sigara b b manda la sigara c c rimanda la sigara la cosa succede? chi risponde? è che continua c perché c'è il lavoro della sua condizione invece la chiamano se non non può essere contemporaneamente sullo io c'è una wait queue quindi la sigara l'abbia persa ok la sigara è ripresa solo dal processo che sono nella wait se ha mandato ora la signal non è non può non ha un processo o è qui o è lì quindi se è nello urgent stack non è nella coda di wait di quella condizione quindi viene perso come la giovane ha detto l'altra volta forse ho detto il ricevimento non importa manda se voi anche segnalate una cosa non c'è nessuno che attende quella cosa non succede niente non state vi a poi il problema di fare delle if lunghe così per contare che non vada persa la signal no non serve a nulla è fatta apposta per poter andare perso prego è una cosa che riguarda lo scheduling che avevo spiegato l'interval time che era stato considerato è il clock di sistema o è un'altra cosa l'interval time allora la letteratura è bella perché tante persone usano termini diversi per indicare la stessa cosa l'interval timer è un dispositivo che viene che manda un interrupt dopo un ritardo programmabile il clock del sistema quello che viene detto il clock del sistema normalmente è l'oscillatore principale del processore che è un che è la 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 come si dice è un circuito che produce una frequenza precisa che è quella che serve per fare avanzare l'istruzione o di micro istruzioni il processore a seconda se parliamo di macchine rischio o di macchine cisco quindi di solito la voce clock del sistema viene utilizzata in architettura per parlare di quell'affare che va a un gigahertz e tot quella cosa che serve per dire io ce l'ho più veloce la macchina mentre invece l'interval timer è una circuiteria a parte rispetto a questo che magari prende l'oscillazione principale sempre dal clock del sistema ma è una specie di counter che provvede a mandare un interrupt con un ritardo specificato alcuni autori però so che fanno confusione con i termini e tendono a chiamare clock l'uno io tengo a dirlo così in modo che sia chiaro che sono due cose per me separate ok ancora allora andiamo avanti a vedere l'ultima cosa scheduling allora sì scrivendo la classe di frutta abbiamo visto che l'ultima cosa che abbiamo visto se ricordo bene è proprio quella della round robin e l'idea di no abbiamo visto anche lo schede la fiducia facciamo un attimo di ripassare questo tipo di schede round robin prevedeva semplicemente di schede quando non funziona il cambiamento di schede io sono sulla parte di iniziale del super non funziona neanche i miei cenocchi possono mettere il capo che allora vediamo ah lei ha perfettamente ragione ora deve essere cambiata abbia febvia se ci riesci a sperare a sperare continuo a sperare a sperare il piatto ok mi hanno scontato di dare un passo semplicemente avevo lanciato una cosa mi chiedeva per rispedire le cose prima o poi di solito avevo chiaro pubblico chiave privata poi sono entrato in quel momento in cui avevo trovato un errore su SSL per cui c'erano delle coppie deboli allora per un po' l'ho tolto per vedere di non entrare nel giro delle coppie di chiavi deboli e adesso prima o poi mi genererò un'altra coppia pubblica privata per evitare di dover dare passo però è utile la macchina che porto più facilmente in giro se non ha delle chiavi private sopra perché sennò da questo si accede ai miei account in giro per il mondo se qualcuno dovrebbe accedere alla tastiera di questa allora preferisco dove darlo passo allora vi dicevo Rob Robin tutti uguali tutti democratici fanno turni è stata una conquista notevole di Multics per fare dei sistemi operativi interattivi finalmente si poteva utilizzare in tante persone in tanti processi un sistema avendo la 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 sensazione di poterla utilizzare in maniera indipendente però però ci sono dei processi che hanno bisogno di maggiore priorità e allora abbiamo messo lo schedo di priorità abbiamo visto che ci sono dei processi che se ritardano provocano dei guai dei fastidi per esempio se state guardando un un filmato quindi avete il processo che vi sta facendo il rendering video di qualche cosa o audio se quelli non non riescono a cambiare i pixel sullo schermo oppure a dare feed a dare impasti dati al DSP nei tempi opportuni e diventa fastidiosa la cosa ok allora abbiamo detto ma facciamo la priorità ma la priorità è la starvation allora mettiamo l'invecchiamento però questi vari processi hanno anche delle caratteristiche diverse e qui vediamo le classi di priorità se avete processi interattivi è bene che che siano con gestione interval timer perché devono interagire gli uni con gli altri se avete dei processi soft in real time tipo quelli del un lettore og og vorbis o come si chiama quello per i video vabbè se ora avete un lettore per questi formati sono processi che si chiamano periodici che dobbiamo fare è tipico dei real time anche degli in real time fanno una elaborazione poi stanno fermi fino al prossimo frame o lo prossimo pezzettino di audio da mandare al dsp poi fanno un'elaborazione quindi è già nella loro struttura di fare questa elaborazione ciclica però quando lo fanno lo vogliono fare subito e quindi non non ha senso questi fagli i round robin perché tu gli dai il controllo e poi se non ha finito di calcolare i frame glielo togli per darglielo dopo no darglielo ma tutto perché fa la sua elaborazione poi lascia il processore agli altri così come pure tutti i processi server i demoni che di solito fanno prendono una richiesta fanno breve elaborazione dando una risposta ma i demoni a livello del sistema hanno la caratteristica che se ritardate questa elaborazione ritardate tutti i processi che fanno riferimento a questo demone e quindi spesso è bene che questi rispondano più presto che si può e facciano quello che devono fare poi ci sono i processi volutamente a batch questi processi batch devono ovviamente stare a priorità più bassa ma potrebbero avere dei quanti di tempo più lungo oppure però a priorità più bassa è preemptable da quelli interattivi perché se ci sono solo loro l'utilizzatore è andato a dormire e ci sono solo loro che stanno elaborando è inutile che questi facciano contest switch molto spesso perdiamo solo tempo con dei contest switch alla fine abbiamo molta più efficienza se ne facciamo far pochi nel momento in cui però ci svegliamo e facciamo qualcosa di interattivo queste sono a priorità più bassa e quindi rimangono lì sotto ok vedete che quello che voglio dirvi è che adesso abbiamo studiato i meccanismi dello schedulo come tanti meccanismi staccati c'è il round robin c'è questo c'è quello a priorità quello a priorità statica c'è lo shortest drop next l'idea degli scheduli della classe di abilità è combinare tutto cioè dire abbiamo tante classi di abilità ma all'interno della classe noi mettiamo possiamo mettere algoritmi di schedoli diverse o meglio questo è il multilivello la classe di priorità ma alla classe di priorità associamo algoritmi di schedoli diverso in caso di priorità c'è semplicemente classi più però quello interessante è questo qui facciamo un esempio processi server o processi real time so real time li mettiamo a priorità statica ok quindi se abbiamo un processo che fa l'elaborazione audio video o real time per intenderci anche un processo tipo mncoder lo conoscete mncoder è quello che cambia il formato di un video dal formato A al formato B quello è un'elaborazione audio video ma è batch processi utenti interattivi round robin altri processi utenti quelli batch fifo e poi addirittura vi ricordate che con il round robin il fatto che tutti i processi fossero intenti a fare input up quindi la coda ready fosse vuota era da gestire come eccezione bisognava a quel punto si faceva partire un processo vuoto che non faceva niente ad aspettare un interact qui il processo vuoto può essere gestito naturalmente cioè è un processo come tutti gli altri in una fifo banale in una coda che contiene un solo elemento lui che naturalmente verrà selezionata solo quando tutti i processi a priorità più alta quindi tutti gli altri sono in attesa a fare input output vi ho detto che il processo vuoto può essere fatto in due modi gli soliti processori moderni hanno uno stato di attesa fatto apposta quando le macchine non avevano questo tipo di supporto l'unico modo era il base weight base weight funziona ma produce consuma energia e fa genera calore real time vi ricordo che la definizione esatta di real time è un sistema che fa delle elaborazioni la cui correttezza dipende non solo dal valore restituito ma anche dal tempo in cui il valore viene trovato vi ricordo ancora che real time non significa veloce real time significa che ha delle certezze sui tempi di risposta che potrebbero non essere tempi molto rapidi si dividono in a real time e sotto real time a real time se provocano catastrofi se la deadline non viene o possono provocarla se la deadline non viene rispettata controllo di volo degli aerei controllo delle centrali nucleari controllo dei pazienti di terapia intensiva sono tutti sistemi che hanno dei vincoli temporali che devono essere rispettati e non si può sgarrare invece i soft real time sono quelli dove gli errori sono scomodi ma tollerabili ricostruzione del segnale audio video le transazioni interattive anche se volete le risposte a servizi web i sistemi real time i processi real time si dividono in due grosse categorie processi periodici e processi aperiodici processi periodici sono processi che hanno un loro ciclo di operativo e vengono riattivati ciclicamente e devono fare un'elaborazione in un tempo prefissato esempio di processi periodici sono i tipici processi di retroazione di controllo la centrale nucleare ha un processo ciclico che controlla la temperatura del reattore e aumenta o diminuisce la presenza di materiali rallentanti all'interno del nucleo che rallentano la reazione per mantenere la temperatura stabile è un po' non è molto diffuso in Italia comunque molte auto specialmente negli Stati Uniti hanno il bottone quello che mantiene la velocità che avete al momento come si chiama cruise control il bottone è il cruise control che vi mantiene la velocità è la cosa migliore per addormentarsi e andare a spazio da qualche parte specialmente se avete delle belle autostrade dritte e infinite e quel cruise control è esattamente quello controlla la velocità è un po' quello che facciamo tutti in autostrada per evitare gli autovelox se continuano a guardare la Stati ogni tanto si dà un occhio sul tachimetro se si tende ad andare a 129 quasi periodico si torna un po' indietro e e così via e questo lo fanno i sistemi fly by wire cioè i sistemi di controllo ormai tutti gli aerei di linee hanno sistemi di controllo dell'assetto cioè l'assetto dell'aereo non è mai direttamente attaccato alla cloche del pilota quello dà la direzione e poi tutte piccole variazioni dovute a correnti d'aria laterale così vengono sistemate automaticamente da un sistema di elettrazione per fare quello che vuole il pilota invece ci sono processi aperiodici tipicamente sono quelli relativi a azioni one shot per catastrofi per esempio io qua non vedo di solito l'esempio che faccio nelle aule è di guardare il rilevatore antincendio che ci dovrebbe essere da qualche parte però non lo vedo il rilevatore antincendio appena sente il fumo fa scattare l'allarme fa partire gli irrigatori a piotto ottimi per un corso di informatica per far fuori un certo numero di portatile e è così quindi quella non è un'azione il sistema non la riceve come un'azione ciclica c'è il sensore che continua a fare il controllo quando scatta l'allarme manda one shot l'azione ed è solito è one shot ma ci sono delle azioni da l'avete trovato ci sono delle azioni da attuare in un tempo prefissato di tempo per leggerci dovrebbe essere da qualche parte l'avranno nascosto quando si fanno dei quando si fanno dei sistemi a real time vi ho già detto vi ripeto che non si scrivono programmi come li scriveremmo con normalmente esistono tra l'altro dei linguaggi di programmazione specifici per la real time perché perché a real time deve dare certezza nei tempi di esecuzione non ci si può permettere che per un errore di programmazione in un caso che non è mai considerato il programma va nel loop infinito perché non dà alcuna certezza dei tempi di quindi linguaggi di programmazione per la real time non hanno una condizione di wild ma hanno una condizione di ciclo dove bisogna sempre stabilire il numero massimo di cicli e un'azione di recovery per esser si raggiunge il numero massimo dei cicli in modo che possa essere sempre calcolato il peggior caso computazionale quindi viene calcolato nella più lungo dei percorsi che può prendere questo programma quanto tempo ci mettiamo dall'inizio alla fine non essendoci cicli infiniti basta fare conti e lì ci vuole ancora più accortezza del programmatore perché è facile fare dei programmi spreconi che fanno quello che devono fare ma sperperano risorse perché fanno in modo di allungare molto questo caso peggiore quindi per ogni processo abbiamo quello che viene chiamato costo computazionale e se per esempio abbiamo processi periodici come quelli di queste schedele abbiamo il il periodo due grandi risultati sono questi ho tolto tanti anni fa quando avevo più crediti facevo la parte di schedele real time chi ha voglia lo possiamo approfondire però vi dico solo questi due risultati senza fare esercizi come facevo una volta rate monotonic si assegna una è una politica di scheduling a priorità statica si assegna a ogni processo una priorità che è inversamente proporzionale che è in ordine inverso rispetto al periodo o meglio è coerente con la frequenza processi a frequenza più alta hanno priorità più alta data questo Liu e Leiland hanno trovato una hanno trovato una formula che garantisce la schedulabilità cioè se la somma dei rapporti fra costo computazionale e periodo è minore di una costante che non vi sto a dire che dipende dal numero dei processi in gioco allora siamo certi che tutti i processi arriveranno entro la deadline è già un risultato è condizione sufficiente e non necessaria cioè siamo certi che arriveranno entro la deadline però possiamo anche buttare via dei casi in cui la cosa funzionerebbe ma non la cosa funzionerebbe ma quel conto quel calcolo matematico quel minore uguale non è dato arriva un altro risultato l deadline first che ha priorità dinamica cioè qual è la logica ogni momento in ogni momento che andiamo a calcolare lo scheduling noi facciamo in modo di dare il processore al processo che ha la deadline più prossima deadline vuol dire il momento all'interno di un periodo ovviamente un processo che ha questo periodo in ogni periodo deve calcolare una quantità così quel processo che invece ha un periodo più lungo e questo deve calcolare cosa ok quindi l'importante è dare il processore in maniera tale che all'interno del periodo ognuno trovi il momento per fare la sua computazione quindi l'u e l'era e il monotonic danno sempre priorità a questo e poi all'altro perché guardano semplicemente per il invece Ernest deadline first se capitasse che è rimasto poco tempo per fare questo ok qua è rimasto poco tempo per fare questo quindi questa è la data più prossima e questa c'è la più lontana anche se questo ha periodo più breve viene dato la priorità a questo perché la data è la più prossima in questo momento ok con questo meccanismo siamo a condizione necessaria e sufficiente basta che la somma delle quote di processore sia meno uguale ad uno pensate che questo è il corso computazionale e questo è il periodo se avete un solo processo che viene lanciato ogni 1000 secondos e ha il periodo di un 1000 secondo l'unica cosa che potete fare è dare il pieno processo del processore ok ogni 1000 secondo parte e in 1000 secondo deve finire l'elaborazione ma dura un 1000 secondo l'elaborazione quando ha finito non ha spazio per altri se invece un processo impiega un 1000 secondi e ha un periodo di 2000 secondi la quota del processore che adopta è il 50% quindi quella è la proporzione di processore che utilizza sembrerebbe la panacea ok perché dice che là c'è solo utilizzi meno il processore e qua l'utilizzi di più quella è solo condizione sufficiente questo è necessario e sufficiente c'è un problema il problema è che se avete un a parte la priorità statica è più facile che la priorità dinamica da implementare e poi la priorità statica tutti questi conti la facciamo nella situazione di avere il contest switch a costo nullo ma non è vero nella realtà la potete stimare anche al massimo quanti contest switch potete avere perché sapete quanti processi avete con maggiore priorità della vostra in questo secondo caso no perché potete venire interrotti molte volte ed è difficile stimare quante interruzioni potete avere molto spesso oggi anche perché si tende a quando si ha a che fare con dei sistemi critici si tende a voler la certezza anche se si spende qualcosa in più si tende a usare il ritmo monotonic ancora una cosa vi dico ricordatevi sempre che sistemi a real time hanno il momento di esercizio il momento di funzione e il momento di preparazione un sistema non nasce a real time dal boot deve essere chiaro a tutti nessun sistema è a real time al boot una volta che è entrato al regime si fa si fa partire così gli aerei fanno boot del sistema a terra prima che diventi critico il sistema la centrale nucleare viene attivato il sistema finché la centrale è spenta oppure fino a quando c'è un altro sistema di controlli in esercizio non è che si fa partire così quindi prima si calcola lo scheduling e poi si fa mette in funzione sono il 10 lo facciamo nell'ultima mezz'ora esercizi piuttosto che tirare fuori un altro capitolo che non è il caso avete qualche esercizio non con me non lo puoi fare quello che ti ha messo un passo in smemorato l'abbiamo fatto insieme che potrebbe arrivare solo da riuscire solo da stare si quello è solo che la domanda ce l'ho 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 c'è Grazie. 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 Un servizio asincrono, send rsvx, dove la rsvx non ha parametri, riceve fiphone, tutti i messaggi, come se fosse rsv asterisco. Qual è la logica? La logica è quella di, io lo implementerei così, terrei le code dei messaggi vuote e una struttura dati che tiene, che fa le meci delle code dei messaggi. Quindi, quando devo ricevere, io comunque, lo so, si potrebbe anche ottimizzare, proviamo a farlo non ottimizzato, l'ottimizziamo. Io comunque riezionerei tutti i ricevibili nella mia struttura dati. poi vado a vedere se vado a vedere se ricevo se nella struttura dei dati c'è qualcosa di interessante quindi io devo fare la ascend e la arsiv la arsiv ritorno al messaggio la ascend la ascetipi ma è chiaro che il messaggio sarà di tipo t poi la aline la seguire la salvazione di tipo pid qualcosa di più allora ricevo tutti i messaggi e li metto in una cosa quindi io io farei la tecnica di ok proviamo a fare così quindi io partirei mandando send send x a send x si chiama a send x a comincio a mandare un tag quindi solita tecnica e due MSG vediamo non ci serve MSG uguale ISAVE X anzi facciamolo mandiamo delle coppie anche se qui non servirà così anche alla struttura unica e mando una coppia get fit tac quindi dicevo coppia send MS un po' come se fosse il Python dicevo la coppia RSG X non ha paranti a RSG X ok è ovviamente la coppia ok è ovviamente la coppia ok if MSG diverso da tag quindi se non è tag potremmo usare solo tag senza questo ehm 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 che è altro qui messo DTP alto Sender ehm questo SND e questo è sempre per lo stesso SND MSG ok 2 Y SND ehm diverso second pit o MSG diverso per il time eh ehm Sì quindi qua dovevo scaricare e arriva la sua domanda ehm volevo chiedere però in questo caso visto che controllo Lore che il messaggio si diverso da tag non potrebbe un altro inviarmi un messaggio eh Sì faccio un attimo ehm ehm che è un messaggio uguale a tag allora è il tag se un altro manda un tag ehm vuol dire che volevo mandarle il tag in realtà il tag dovrebbe essere una cosa che è fuori dal gioco ok perché se no siamo siamo nei guai se volete se non siete certi che il messaggio tag sia che uno voglia mandare proprio il messaggio di tag mettete un altro campo qua che è un ureano che dice è il tag o no ok comunque poco importa cioè a questo punto tutti i messaggi che sono stati io a questo punto farei una cosa di questo genere ehm guai msg uguale a msg tb punto mezzo send uguale uguale a quindi io a questo punto cerco se c'è un messaggio che fa match con la richiesta nel database abbiamo due casi c'è o non c'è se non c'è cosa faccio faccio sd msg uguale a sx e metto msg tb punto alt snb msg cioè a questo punto se c'è l'e se no dicevo un messaggio è quello buono non lo so se è quello buono o è quello cattivo lo metto nel database e poi me lo trovo a domandare quindi se era quello buono qui lo aggiungo e qua lo trovo se non è quello buono qui lo aggiungo e qua non c'è quindi torna a ricevere un altro ok e continuo a scrivere da questo punto scrivo rettana msg prego voglio chiedere mi permette lo stesso controllo si poteva fare anche all'interno del precedente cipa while cioè controllo facendo un controllo in più controllando che se il messaggio è proprio quello che mi aspettavo allora esco immediatamente il problema è che facendo così ci sono dei tag spuri all'interno del se lei mi uscisse qua non si è scaricato il tag quindi c'è il tag che vaga nella coda dei messaggi che deve accedere invece così sono certo che il tag me lo consuma e poi e quindi qua questo diventa un affermix get fit msg a test un'altra domanda che ci si potrebbe fare è proviamo a pensare come sta perché questa è la cosa che mi viene più naturale ma proviamo a pensare proviamo a pensare a quale ci senti sono questo c'è solo con la seconda parte funzionerebbe messaggi cosa forse si quindi non c'è bisogno di tenere di tenere di svuotare le code in ingresso se l'ho già ricevuto in una delle interazioni precedenti per l'ora allora lo restituisco se invece non l'ho ricevuto io ricevo qualcosa ricevo qualsiasi cosa lo metto nel metto in una delle interazioni poi se l'ho ricevuto poi se è quello buono quello attivo si quindi funzionerebbe anche così se l'ho ricevuto e lo so se l'ho ricevuto e lo so se l'ho ricevuto mezza se l'ho ricevuto di tenere primo e l'ho ricevuto si quindi ma quello non ha nulla a che fare con la concorrenza quello è semplicemente una gestione di struttura dati basta scrivere a fianco la ad fa così la match fa con l'acqua poi si potizza e spero che sia vero che con un attimo di calma sapreste scrivervelo con una gestione di una struttura dati spero che i colleghi di algoritmi vi abbiano sufficientemente martirizzato per martirizzato per consentirvi di scrivere algoritmi ok quindi questo l'abbiamo fatto un quarto d'ora c'è tempo per un altro terzo breve vediamo qua su a quello abbiamo fatto l'uno non abbiamo fatto quello che deve prendere la massima priorità tra quelli tra quelli nel buffer e quelli in attesa cosa c'era un vario notti oppure più comodo di altri meno comodo per fare questi esercizi a allora la tecnica risolutiva migliore per questo esercizio era prendere un buffer i primi sites si devono bloccare quindi abbiamo sites elementi e quindi all'interno di questa struttura dati ampia site noi abbiamo i messaggi e abbiamo una e abbiamo codato i sì abbiamo i messaggi e attività quindi possiamo mettere per questa struttura dati bar puttot is because at ok bar puttot at M3 avoid bar puttot get set parametri da restitution messaggio e bar puttot lenz e invece quanti elementi ci sono dentro mi piace come interfaccia ecco un'altra cosa che nei compiti trovo sono sempre sbagliato lenz con THP delle cose strane A2 raggiunge l'elemento a questo buffer e raggiunge con messaggio e priorità che è quella massima priorità e lenz è la lunghezza ok e questa è la struttura dati che è mantieni i messaggi poi abbiamo una seconda titola l'arte che è gop-up add e qua mettiamo facciamo inserire una condizione e una priorità perché per quello in attesa non stiamo ad accodare il messaggio ma accodiamo una condizione e la priorità poi condition wbath get e prende la condition di quello in attesa a più alta priorità e anche qua abbiamo wbath l'enzi ok allora è più a m creo di più non ha parametri allora quando è che è una quando è che una che un produttore si deve fermare si deve fermare se il buffer è pieno quindi quindi if va puntato length maggiore o uguale a size cosa faccio cosa faccio c uguale malloc new condition mi crea una condizione in dinamica e a quel punto faccio waiting bath punto at c e f c e frio se volete e ne lasciamo se invece non è non è size ok non è maggiore quale di size oppure è calata l'ampiezza quindi non lo è cosa faccio a questo punto metto bath punto at m trio e attenzione la condizione però standard qui abbiamo condition not entry quindi a questo punto not entry punto signal ah scusa manca una cosa fondamentale c punto wait e free c cioè mi metto nella coda di attesa mi fermo sulla mia condizione e aspetto che qualcuno mi sveglie quando mi sveglio potrò via la condizione la di chiudere intanto intanto if va sputtato rent uguale uguale a zero una testa è frutto in fondo per la condizione vuota è un buffer come tutti gli altri poi e qui viene il barbaciurco se vbuff punto net maggiore che zero io faccio un c uguale vbuff punto get e faccio c punto signal poi vi spiego e a questo punto faccio a questo punto faccio buff m uguale buff punto get oppure addirittura posso fare rettagna mettiamo scrivolo del solito va tutto funziona bu vediamo mi dica volevo chiedere ma la gestione delle proprietà quindi in che base ha codo decodo e sblocca la proprietà io chiederei di aspettare che lo spieghi che cos'è qual è la tecnica la tecnica va bene per l'accordamento è quella di ne accordiamo site e poi per tutti gli altri teniamo una struttura dati che non ha i messaggi però una struttura dati dove teniamo una condizione e la priorità di ogni messaggio in attesa ok quindi se non aggiungiamo l'ampiezza site funziona come un buffer diventato normale perché qui viene fatto buff qui viene disarcodato non ci sarà nessuno in attesa se non raggiungiamo size e a quel punto la disarcodiamo e al momento in cui però raggiungiamo size il trucco che viene fatto è questo questi sono quelli in attesa noi mandiamo la signal al primo in attesa cioè quello che ha la massima priorità in attesa ok quindi in realtà la struttura data per un attimo arriva all'ampiezza size più uno ok però state attenti un secondo però qui abbiamo aggiunto quella priorità massima fra quelli in attesa alla struttura dati quindi quando andiamo a prendere quella priorità massima nella struttura dati a quella abbiamo aggiunto quella della priorità massima in attesa ottenremo quella priorità massima fra quelli nella struttura è quello in attesa perché quando andiamo a risvegliare questo aggiunge il segnale non tempi ma va perduto quindi qui quando il tuo povere prima facciamo aggiungere l'elemento dalla coda in attesa con questo signal alla coda dei messaggi quando qui andiamo a fare la get abbiamo a disposizione quelli che erano già in attesa più quella a priorità massima quelli che erano già nella buffer più quella a priorità massima di quella in attesa tanto l'avremmo dovuto risvegliare subito qua dopo il primo in attesa perché poteva mettere il suo elemento nel buffer abbiamo usato il trucco di risvegliarlo subito prima in modo che lo mettesse già a disposizione si in questo caso rispetta l'interfaccia esterna che sites si bloccano il site più e il site non si blocca che il site più in esmo si blocca lei dice come abbiamo capito quella ampiazza massima tra l'altro ma tra l'altro lei ha dovuto allocare anche spazio per tenere tutte le priorità di quella in attesa quelli spazi in memoria che deve avere se lei lo vuole fare senza l'elemento successivo si fa anche così ma ci si complica la vita quindi la mia domanda era viene gestito automaticamente all'interno della struttura dati quindi la restituzione del valore a priorità maggiore anche se quella struttura dati contiene delle condizioni all'interno della struttura dati non contiene né weight né signal vengono semplicemente tenute da parte e ridate al chiamante cose come sono e quindi a quel punto è una struttura dati sequenziale imperativa non è concorrente se lo volete fare senza l'elemento in più come si fa? dovete avere un caso speciale che se quello è svegliato come il primo della coda il primo della coda che non l'ha messo nel buffer si sveglia direttamente e restituisce scusate vuole anche che la coda sia piena ok a questo punto abbiamo il primo in attesa che è quello che il cui valore deve essere passato a chi ha fatto la dequeue per passarlo visto che non si può buttare nessuno degli elementi un buffer ci vuole per quel singolo elemento allora l'unica differenza da farlo così o colà è che abbiamo un buffer lungo size e un elemento staccato oppure un buffer punto size e un elemento attaccato tanto vale semplificarsi la vita avrebbe fatto bene a fare la domanda ad alta voce durante lo svolgimento del test in modo che l'avrei dato questa risposta avrebbe avuto un dubbio comunque anche lei per conto suo può sempre commentare un elemento in più ci vuole perché se quelli sono pieni non li posso toccare emittente destinatario ovviamente sono due processi separati e ho bisogno di una variabile di transito per mettere il size più unesimo elemento quindi si possono aggiungere condition arantanice nel senso i processi possono richiedere di generare nuove condition assolutamente sì e possiamo avere buffer purché non buffer di quell'altro c'è di politica potete generare buffer anche nel caso di buffer limitato però è un buffer di altre cose buffer di altre cose potete avere purché si rispetti la specifica chi si deve fermare chi deve andare sono le dieci e mezza se la forza è la soluzione mi assiste cerchiamo a mille a mille uh Grazie. Grazie.